Vorrei sottrarmi alla tentazione di raccontare quello che è accaduto come la notte della Repubblica. Oggi Mattarella certifica l'inidoneità della maggioranza giallorossa a fare le riforme, cosa che era sotto gli occhi di tutti da mesi. Il Capo dello Stato non deve solo verificare in questo caso la consistenza numerica della maggioranza, ma di fronte all'emergenza e di fronte alla congiuntura europea fare questa verifica. Oggi Mattarella la certifica, ma noi lo sapevamo. E questo ci riporta sul piano politico e ci riporta a Renzi. Perché nasce l'alleanza giallorossa? L'alleanza giallorossa nasce per cristallizzare la democrazia bipolare, impedendo a Salvini i pieni poteri e costruendo un'alleanza strategica fra i 5 Stelle e il PD. Renzi la seconda a questo progetto. Un nuovo centrosinistra. Perché Renzi la seconda a questo progetto? Perché deve fare l'ascissione, ha bisogno di tempo e pensa poi di rompere dentro questo quadro con una prospettiva macroniana, sconvolgendo il bipolarismo. Purtroppo gli va male per lui. Perché? Perché la democrazia italiana è binaria. Anche per responsabilità, lasciamelo dire, del lessico dei media con cui si racconta il paese. E quindi Renzi diventa irrilevante sul piano strategico. Oggi Renzi cosa ha fatto? Ha tentato, riuscendoci, di correggere il suo macroscopico errore iniziale. Cioè quello... Diciamo che nasceva da un altro errore, quello del referendum. Esatto. Di tatticismo in tatticismo ha decostruito il tentativo del PD e di 5 Stelle di consolidarsi e di rifare una sinistra che si ricompone attorno alle sue vecchie parole. Però bisogna anche dire che questa sinistra che si ricomporre attorno alle sue vecchie parole è incapace di produrre le riforme. Allora vuole intervenire con Cittade Gregorio, però una domanda passa per Carlo Calendadice. Grazie.